Mi si sta rompendo le cuffie Amici siamo qua Alla fiera dell'est Dove è la scena? Un topolino mio padre mangiò E venne il gatto che si mangiò mio padre E poi è finita la storia perché Assolutamente È finita la tragedia Stangazzata che io ho il doppio marco Non lo voglio va bene Ma c'è gente che pagherebbe Per non avermi No per non avermi Buon work Sento l'eco da marco ogni tanto Cosa? Dalle tue cuffie ogni tanto Può essere sai Ma mi sa strano però No forse non è che ti sia alzato un pochino il game Perché sento anche di fruscio di sottofondo Che dice? Nils Grazie mille Ben arrivato Nils Ben bene Buon arrivato Nils Tanto apro minecraft Oggi vedrete una live di solo scavaggio Perché ci servono In realtà Io devo andare a prendere No solo è uguale il game Non lo so perché No forse ho avvicinato un po' il microfono Li metto un po' più giù No ma non è Dovrebbe sentirsi di meno se lo tieni più vicino Vabbè Vediamo Lo senti un pochino di rumore di sottofondo dal Jezero Da me stesso E poi deve parlare No no sto parlando Adesso va tutto a scatti Attualmente no non mi Quando finisce di parlare dico Non lo so può essere Magari c'è un po' di frizzichettino No Non ci faccio Quanto avete anche le stesse cuffie voi no? Sì Non mi sembra di sentire Magari stanno dando le tue cuffie quindi No lo sento bene Non è che Non lo so Sento roba in più Sessione non valida ragazzi Io sono dentro Grazie Sibbo Grazie mille Sibbo Poi 32 anche te Grazie Sibbo Allora amici Oggi voglio prendere Come dicevo agli altri Siccome sto streamando io Quindi me la posso grattare la Waller Come? No non è vero Però voglio pescare Voglio pescare perché voglio Voglio fortuna del mare Voglio prendere tutti i pezzi D'armatura Grazie delicatissimo Grazie delicatissimo Stavolta sono all'interno Non è vero Sono in connessione Eccoci Quindi dobbiamo andarla a scavare noi Eh per forza Oggi sono un personaggio importantissimo Sei Batman Sono il Cavaliere Oh scusa Non sei il Cavaliere allo scuro Comunque sei Batman del 64 Sei Batman quello di No sono quello della serie tv in teoria Cosa Come si chiama Aiutatemi amici Famosissimo Però mi sta sfuggendo Qui c'è solo questa qui Che è fatta abbastanza bene E mo lo vengo anche a vedere Un attimo Che cazzo sto facendo Adam West Bravi Adam Westeros Dovrebbe essere lui Magari è un po' più pompato questa versione Però Ma se vuoi pescare con la mia canna Tirata è anche quella del cartone Ah giusto La metto qua nella cassa delle Arnold's Ma voglio Io devo fare un sacco di piccone Del cartone Perché va allo stesso identico costume Per ora Svolto Fortuna del pene Ma non hai esca però vero Peccato sarebbe la canna definitiva Grazie Xenx Shanks Perché ho detto Xenx? Shanks Grazie mille Shanks Posso chiedere una piccola benedizione Per il colloquio di oggi Vai Moro Prego Moro Ti benedico nel nome del Signore Posto Per il cristianese Dov'è il lazzo? Cristianese No Il secchio Io ne ho lasciato uno Nella mia cassa in casa mia Stronzo Guardi Lo porto dietro Mussecchio Mussecchi Sarà mai Grazie Scronchi Ma siete tantissimi Ben arrivati Scronchi Ben arrivati Tutti vi ricordiamo A todo lo punto Personaje Eneste live Che giovedì C'è la Tomani C'è la 12 ore Me l'ho scordato Che era 13 Dalle 9 alle 20 ore Come ha scritto Luke Su Instagram Mi raccomando partecipate Perché altrimenti Mi incazzo Poi non faccio niente Perché sono una persona buona Tranquilla Ho preso un libro No quello dell'altra volta Metti tu al culo Metti Dark Pronto? Ciampino? Sono 33 torce Casa la terza? Metti la quarta E basta Io voglio cercare altri Di parzellette di coso Però Di trombino Lì come si chiamava Panni Grazie Panni Grazie Panni Buon lavoro Buon labor Allora Allora Sono pronto Per andare in miniera Non me le ricordo Ma lo stai chiedendo Bombolo Ecco Poi togliere L'elmo d'oro Porto Porto il cazzerone Porto Così se lo perdo Perdiamo la nostra arma Definitiva È hollow Roba di quando ero piccolo In realtà Non è di quando ero piccolo Non lo porto Quando ero piccolo Ma era roba di mio papà Probabilmente Il bombolo Ok Ripper Allora Le mucche qui sono cresciute Bisogna andare a mangiare Per farle scopare Un attimo Piezza Non hai fatto riprodurre le mucche? Te le sei fatte tu Di la verità Non lo faccio Ti fa semplicemente Servevole un sacco Perché mancano un sacco di roba Esatto Hai comprati Il tre for leg O quello Mia Madonna La costa 300 euro Però è molto Non servono I soldi Il problema È proprio lo spazio Lo spazio Vado a letto Complimento Spai mandami le foto Quando lo finisci Vado anch'io 400 euro Con la spedizione Guarda Ti è andata Abbastanza bene Perché mi pare Che costava 400 di base Più che altro Appunto Io non avrei lo spazio Per poterlo mettere Quindi anche avendo Se su uno mi desse 10.000 euro Da spendere il lego Comunque non potrei usare Perché non so dove mettere Ma infatti anch'io Sennò ho preso Le metto per terra Mezzo al copicoglio Di prendere gli amico Molto bello Ah beh Quelli di Dermonnezza Anche Qualcuno deve dormire Ma adesso No è bello Molto bello È riprodotto Veramente bene Che bella giornata Qua A San Siro Sarà difficile Dobbiamo fare un po' Di stradine Però È Io l'ho fatta È molto grezzo Tu adesso Rifai tutto a casa Che l'hai fatta Di uno Porca miseria Mi dà fastidio Eh no Ma è comodo così Adesso la strada La fai di tre Togliendo tutta la terra Qua davanti Mi dà fastidio Un po' Voglio togliere Tagliatissimo È vero Voglio con un secchio D'acqua Togliere tutti i giuffi D'erba Che mi danno L'idea Di Disordinare Mario Gisotone Quello di Persona 5 Ma che storia Grazie per I biz Perché per domani Abbastanza Sì Vediamo poi domani Oggi ho la skin Di Fasm Sì Dove si va A scavare Qua Io vado sotto Casa mia Come se Ok Ho tolto tutto Il blocco di Catram Quindi vado da solo Vando Eh sì No Se vuoi mandarlo da solo Eh beh Se vuole vieni qua Da me Non so dove È casa mia Ora fai una roba Aspetta Fermati Che minghia vuoi Putta Anzi lo faccio anch'io Togli le robe d'oro Che tanto Ti si rompe un' E' Ti la chiesa Te le porti in giro Vabbè Chi se ne frega Vado a scavare Eh ma appunto Metti che muori Tipo io Gli stivali L'ho già quasi Consumati tutti Ma tanto ci sono le robe Sì ne abbiamo altri Eh però Devo mettermi Altri piedi Certo Per il ser Por passo Ho uscito Un percorso Ho sentito Uno schifo Di merda Nella casa I miei vicini Che come sapete Sono personaggi Importanti Nel mondo Della politica Sento un bambino Che piante Ma non ci sono Bambini Guarda qua è pieno Di vie Ma ci si può Vado nella lava Anzi poi guarda Facciamo delle vie nuove Qua chiudo Così Io ora in mezzo Con la cosa lì No no Amoratone indietro Non andiamo di là Ma ci si perde Ma che altezza siamo Eh felicottero E' E' questo prende Amante Don 11 Ma a parte cosa sto parlando A fare perché se te partita La pubblicità Non dovresti sentirci Vecce ci sente Ma Allora Bravo Felicottero Ma Ah di qua per così Va bene Allora se tu fai così Io vado di qua Vado di dietro Vado indietro Guarda Io te la faccio così Sì sì ma come vuoi Tanto qua c'è Porca di una Torce Io ne ho 16 Eh sì a sta canna Manca esca Avesse esca Top Magari la peschi Amici mi raccomando Se siete sub al nostro canale C'è il gruppo telegram Usatelo Entrate A volte mettiamo fotine Cose inedite O comunque sia potete Semplicemente chiacchierare Tra di voi E qua qua si discute Sempre un sacco Tipo ieri Però la cosa di Xbox È andata avanti Tanta la giornata Se invece ci si tiene compagnia Ecco qui Un arco I due spazi Accanto Scavi un altro Esatto Sì di solito Dopo tre Dopo tre spazi No No due Perché sennò Non vedi un blocco Ah sì c'era non vedevolo in mezzo Ho preso un arco Potenza 4 E basta Però potrebbe essere Cioè potenza 4 è tanta roba Magari blu unisco con qualcos'altro Ma Mi sono innestato in un altro Bus del chap qua No lì è pieno Ho scavato un sacco Quindi Guarda i creep Gli enderman Che hanno spostato Un blocco di sabbia Qui Per più religione Un po' duro La è Potenza 4 Lo posso mettere già Il mio arco Allora Ok ho l'arco definitivo L'ho pensato adesso Ho mettere 4 bonus Quindi Sento della lava Eccola la lava C'è uno zompo Ok Potenza 4 La voglio testarlo Però qua ci sei già stato Ma io ho preso il secchio Ma senza Prendere un cacchio Ebbè Un potenza 4 È tutto un altro discorso Eccoci qua Cosa riusciamo a comprare Dal mercato Del peppe Lì ci sono anche gli alberi della savanna Che non ne ho preso neanche uno Che non ne ho preso neanche uno Uncenniamo Poca la bendella Ma io ho 3 di esperienza Come 3? È perché ero morto E ho perso 25 livelli Poi ne avevo rifatti 16 Poi pescando Alla fine della live Che adesso ho usato Per mettere potenza 4 Quindi sono donato Pescando dovrei piano piano A parte che adesso Appena si fa notte Tanto voi siete nelle grotte No? Sì Quindi mi metto a uccidere Tutti i mob che ci sono qui intorno Faccio un botto di esperienza Bravo Stai indistortibilità l'arco? Purtroppo no L'unica cosa Perché ho infinità Impatto 1 Fiamma E potenza 4 Appena posso toglierò l'impatto Se riesco Una cosa che meno mi frega Il fatto dovrebbe essere tipo Sopra c'è l'acqua La traduzione dovrebbe C'è la spinta Praticamente No No Non mi pare La potenza è potenza Knockback sarà In inglese No È tipo rinculo Una roba del genere Il rinculo non c'è nell'arco Non puoi togliere gli incantesimi Eh no Allora mi Vabbè lo riparo Ci vuole poco Faccio un arco normale Me lo riparo Non è un problema Perché devo usare esperienza Semplicemente Ora riempi il secchio Dicono Certo Quello volevo fare Però qui sono degli infami Bastardo Ma io devo ancora Ragazzi dobbiamo ancora tornare Ma voi siete dati alla cava Quella che ho scoperto io? No sotto Ok perché dopo dobbiamo andare anche lì Eh che c'era di tutto Poi ho trovato io una cava Cazzo ficcante proprio Amici domani mattina comunque Vi diciamo già che ci sarà Lo ripetiamo in realtà Perché l'abbiamo già detto Rainbow Six la prima ora Come da prassi E poi dalla seconda ora in poi Faremo la squad con gatto Sperando La patch Dovrebbe essere oggi Dovrebbe essere oggi Speriamo che sia effettivamente oggi Non domani La cifra di Poi dopo si obtizze Non lo so Penso pranzeremo Dopo sotto c'è pranzo E poi faremo un po' di Hunter Magari facciamo Hunter Rock Company Giochi quelli un po' più Non troppe novità purtroppo Eh ma novità Novità magari ci saranno più In quella di dicembre Magari Vabbè Dobbiamo vedere Cioè abbiamo Abbiamo comprato Anche a Mongalte Ve lo diciamo Ma quello sarà una live a parte Volevamo farlo Però dobbiamo vedere un attimino Con chi E quando Sì Per John Simulator Volevamo fare nella 12 ore Ma ieri non ha funzionato Poi vediamo già stasera Magari già lo facciamo stasera Magari già lo facciamo stasera Come va Per il break Falgaz si sarà con la Roby Falgaz Pasina grazie mille Due o tre ore con la Roby Grazie Pasina Non ci saranno i disegni Però magari poi faremo Faremo a dicembre Poi disegneremo Se faremo qualcosa Novità ci sono su sotto Innanzitutto hanno messo i cani Come effetto E quello lo prenderò subito Eh io non lo so Perché ho già già Gigi Sì perché dato che ho i soldi Su Microsoft Li uso così Eh da gatto ieri Lo so ragazzi Infatti Tra l'altro stasera Guarda Esplosa roba qua di fianco Ma questo è infame Si è avvicinato Eccomi qua Ah Tra l'altro Stavo pensando Che con la 12 ore Eccetera Termo Best e Memo Review Saranno Termo Best si Tra l'altro Quello normale E la settimana prossima La settimana prossima Dovrebbe essere oggi Quello normale E beh sì Di solito Ci sembra settimana dopo Quello della 12 Ho una sella La butto Ragazzi 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 Abbiamo il coso No Cosa Cora con lo special Eh silk touch No non ce l'abbiamo Le silk touch La fortuna Non ce l'abbiamo Eh Debbiamo Quanti però sono Ma neanche silk touch Avete Non avete niente No Non l'ho mai provato Io l'avrei Io l'avrei E io avrei provato Almeno uno Eh vado Eh non ho tanti livelli Però quello l'ho fatto Ragazzi lealtà su che cos'era Sul Tridente Ah già Tornava indietro no Sì E poi cos'altro Un altro bonus Ho flagello Flagello degli Amor Mi sa che è sulla spada Hai Ferro No c'ho un piccone se vuoi No è che se mi davi il ferro Andavo a cuocere Così salivo più livelli possibili Ah no sì Andavo a incantare C'ho anche un po' di oro Oh Uso il forno fusorio C'erano già in casa Ho messo qua Così mi ricordo che sono Amici Io sto provando a resistere A non giocare a Marvel Avengers E vi faccio sapere giorno per giorno Ieri ce l'ho fatta Ieri sera Anche perché avevo altro da fare Ma comunque ho guardato ieri Ma le missioni sono quindi Sono quelle del multiplayer Ma Allora ieri Alla fine della live Ci si è aperto comunque Il tavolo del Quello che c'era anche nella beta Sì sì E che comunque sono campagne Cioè c'è la trama Le cazzi N'ecetera La trama Nel multiplayer penso di no No Però le missioni sono quelle lì Non lo so Non lo posso provare Nemmeno Mai finché non finisco Sto perdendo E ho un po' di vie Ma che sono qua È un macello Adesso mi chiude le vie Lo so io No Doveva essere apposta È là in fondo Sì Abbiamo solo i due corridori Che abbiamo fatto noi Basta adesso Arme si blocca Rosa Devi chiedere solo a Marco Eh non posso Non lo so Non posso ragazzi Cioè le robe in multiplayer Non le ho sbloccate Non l'ho fatto partire Ti spoglierà la campagna No una marea di giochi non finiti Tino Su Steam Guarda te lo dico subito Io no 400 500 No io ce n'ho il doppio Tipo Vabbè ma di cos'è che considera anche DLC Ho capito Ma comunque Giochi Ce ne ho 683 Io Io ne ho anche di più Guarda io tendo a finirli A parte Zone of the Enders Che è quello che ho reciclutato In live Su Playstation Tendo a finirli tutti Anche perché lì Compro molto meno Su Playstation è diverso Eh però li finisco tutti lì Qui E anche li platino Anche qui Cioè molti Molti non li ho neanche mai aperti No neanche io Su PC Ma perché Ma perché il fatto è che Cioè molti giochi sono Presi da Bundle Offerte Robbe su PC E' pieno di ste robe Cioè il bello del PC Anche quello lì Che trovi Veramente offerte In ogni dove Di giochini La maggior parte delle volte Però Cioè Probabilmente Di 680 giochi 40 sono Tripla O fatti bene Ma poi Mettete di più In realtà Però una volta C'erano i pacchetti Ma anche adesso Di Umbl Bundle Che tiravano anche 30-40 giochi Alla volta Se non conoscete Umbl Bundle Mai sentiti nominare Tra l'altro giochi E anche adesso So cosa siano Quindi Molti giochi Li abbiamo presi Certo Poi adesso Vabbè E' anche il nostro lavoro Ma anche prima Prendevo Umbl Bundle Ma una volta Una volta Poi Una volta Poi su Umbl Bundle Cioè Sarà che adesso I giochi Lavorandoci Ce li abbiamo Più o meno Quasi tutti Quindi non troviamo Molto Nulla di interessante Però Umbl Bundle È veramente Una roba conveniente A livelli Poi A volte Cioè va anche In beneficenza Quindi No Infatti Però è molto figo Sempre Tutto quanto Era Tutto Poi c'è Tu La percentuale Che andavano O al sito O a beneficenza O agli sviluppatori Comunque Sono cose Molto carine Quella lì Da un pacco Il gelessi Mi ha mandato Una millicena Che è stato consegnato Ma non è vero È un pacco piccolo Perché se è piccolissimo Di solito Lo mettono Nella buca Delle lettere A me succedeva Quando proprio Ma davano anche Quando prendevo I giochi scatolati Una volta Che ci sta Nella buca Delle lettere Lo mettevano lì Un pacco grosso È strano Se in un condominio Prova a controllare Magari all'ingresso Magari l'hanno messo lì Ah non c'è nulla Non è strano Sto facendo una strage Quanto avevo Devo dire Di esperienza Ho un centinaio Di giochi Una decina Comprati Mentre adesso Sono tutti col plus Ah ma chi io Giora Io ne ho 130 Su playstation Di giochi Di cui Penso 110 Di Adel Plus E li hai giocate tutti No Assolutamente Alcuni si Io su pc Spesso Cioè allora Io ho un Un difetto Che se a me Quella cosa lì Non mi prende Subito Subito La mollo Perché non ce la faccio Cioè per dirvi Su pc Appunto Spider man L'ho iniziato Un giorno l'ho finito Pokémon Pokémon L'ho preso Un giorno l'ho finito Cioè io quando mi piace tanto Lo finisco subito il gioco Ma su pc E anche normale Tipo persona Per esempio Mi è piaciuto un casino Ma il persona Su centore Quindi l'ho mollato Per quello Poi lo riprenderò Per me su console Io i giochi che ho comprato Li ho comprati Proprio perché li voglio finire Sarò non li compravano Neanche quindi Praticamente tutti i giochi Comprati su console Li ho finiti A parte Game of the Enders Appunto Ma che lì Vabbè Un discorso a parte Marvel Avengers Uno di quelli Che quando ci gioco Mi vende a continuare A giocare Perché ci sono Cioè sono appassionato Roba che mi interessa Lui che adesso C'ho su playstation Che non ho ancora finito Cost of Tsushima Che non ho proprio Neanche iniziato In realtà Io non l'ho ne comprato A prima o quale inizio Io non l'ho comprato Stavo pensando addirittura Di aspettare Di metterlo su play 5 Giocando lì Io avevo detto Però al 3 Sono al 12 Stoendo gente qua in giro Che bello Starco Cato che si Io sto tornando Un cazzo di diamanti Però Io ce li ho lì segnalati Però Non ho il piccolo Di diamante Avevo perso Pazzarti cacco Nella testa Ma non mi ricordo Ma potessi magari Se ci si Tanto non Non era incantato Beh non faccio Vado a vedere un po' Se nella cosa Dall'incantamento C'è Esce qualcosa di utile Ma no ma c'è tantino Credo che 99% delle persone Abbia almeno un gioco Che non l'ha mai finito Ma per forza Perché magari lo compri Non ti prende O c'hai impegni vari Basta vedere i trofei Su Su playstation Per dire Vai a vedere il trofeo Diamanti Alla fine del gioco Non quello del gratino Quello alla fine del gioco Peccato che non abbiamo fortuna Però ragazzi Ostia quanti Io voglio fare un piccone Almeno Anche solo fortuna Per dire Da quello che ho letto Il gioco più finito Su playstation È The Last of Us 2 Però l'ho finito Ed è al 50% Cioè Quelli che l'hanno comprato Il 50% L'ha finito The Last of Us per esempio Me lo sono mangiato Anche quello lì Vedi Se ti capita il gioco Che ti prende C'è fortuna 1 C'è fortuna 1 Lo faccio Dove? Eh certo C'è di meglio di fortuna 1 Non credo C'è fortuna 2 Fortuna 3 Mi sembra Se è 1 Non è vero C'è sempre 1 Secondo me Fortuna 3 Eh però Io purtroppo Con i livelli Perché scusami Allora infinità Infinità Infatti non c'è infinità Hai ragione Hai ragione Vabbè lo faccio lo stesso Tanto abbiamo solo questo Non è che c'è molto da forza Anche ma che non abbiamo Quella potenziata al massimo Cazzi che strage sto facendo Sono un cecchino Sono arro per davvero Pirla Beh lo faccio Massimo Quanto Ho sentito del rumore Pizzare morto Non è vero Storia Immagini Fatto fortuna E' morto Davanti al tavolo Posso anche Non c'è ci roba Quanto sto scavando Ragazzi Sono arrivato In un altro bioma Ormai Indistruttibilità 3 Potrei metterci Dal libro Prova Sì ci può stare Eh però c'è anche affilatezza Quindi non so Quale dei due metti Affilatezza 3 No affilatezza Non te lo metto sul piccone No Allora metto Indistruttibilità Dai Metto Fortuna 1 Indistruttibilità Come si fa Così Nell'incudine Fortuna 1 Indistruttibilità 3 Se sei fatto Metti Come secondo Ok No non so L'ordine effettivamente cambia Perché io lo metto sempre come secondo Non lo puoi selezionare Lì dipende No dico la L'ordine Cioè nel senso Se tu metti Il libro che vuoi Che sia incantato Come secondo Anziché come primo Effettivamente dobbiamo Incantare i libri Ah puoi mettere Ah ok Io ad esempio adesso Il piccolo con fortuna 1 Trovo un libro Con fortuna 2 Diventa fortuna 3 Trovi un libro vuoto Mi sa anche no No Lo trovi già con fortuna 2 Se tu lo metti insieme al piccolo E che ha già fortuna 1 Diventa fortuna 3 E per salvare solo il Cosa non serviva il libro Per salvare il bonus Devi iniziare il libro vuoto Serve il libro vuoto Eh ma i libri adesso ci servono Per migliorare le linciate In tebola al massimo Non è ancora Questa uscina Vabbè la seconda isola Poi dopo mi sono scoglionato Io sono sicuro che invece Mi piaccia Corolla Adesso non ci giocherei Quindi non lo compro Dove solo trovare il momento Giusto per iniziare Perché poi quando lo inizio Basta Poi lo finisco Dove solo trovare Ah devi venire 2 fortuna 2 Per avere il 3 Ah ok Giustamente 2 più 2 Ma fa 3 No Ma uccidò un coniglio Mi ha passato davanti Che rumore era questo? Cazzi sono al 17 5 blocchi di diamanti 6 blocchi di diamanti Mi ha dato 7 Vabbè Il rumore L'enderman questo Ma tu hai trovato Altri diamanti? Eh sì Ce ne sono 6 Da presi? Eh sì Li avevo già presi Ah Poi dopo tieni Lì quando Anzi è stato molto Molto interessante Questa nottata Guardate che bellezza Ho preso anche un po' di drop Allora Avengers Mi sto trattenendo Perché se lo finisco È troppo figo Io ho letto opinioni Veramente molto contrastanti Su quel gioco La campagna La campagna in realtà Mi sta piacendo Allora io ho letto Solo opinioni brutte No alcuni dicono Appunto la campagna è bella No la campagna No la storia è ok Che il gioco è terribile Poi si il gioco Il gioco io l'ho detto Anche live da me Secondo me Poteva essere fatto Veramente tanto meglio Però No eh A livello proprio tecnico Perché bug eccetera Ce li hai Li trovi In conto Stai infame di merda Quindi non posso Cambiare un bonus No ho finito i picconi Non è vero ragazzi Posso mettere Ah no perché Non sono 4 Sono 5 Sono 5 Bonus Che posso mettere Sull'arco Però mi serve 23 di esperienza Per mettere anche Indistruttibilità 3 Lo faccio ragazzi Farmerò E lo faccio Così ho l'arco L'arco ottimo Così Adesso qua Dovrò farmare Oggi farò l'arco Così allora Che fastidio Ho sbagliato lì Ho scavato Uno più di lato Dovrei farlo anche tu Voi Ma che Aspetta Ma comunque appunto A me la campagna Di Marvel Avengers Sarà che appunto A me piacciono Cioè la Marvel Mi sta piacendo un sacco Ovviamente La campagna No io dico proprio Il gioco di per sé Il gameplay veramente Però mi dà gusto Cioè Mi sta veramente dando gusto Distruggere le robe Poi per quanto Potessero fare Eh ma Il fatto che Ti dà gusto Le prime volte Poi sempre Tutto così Lo smashing Io adesso sono a 5 ore Più Mi dà gusto sempre Devo essere sincero Però secondo me Potevano fare un gameplay Un po' più Ma sarebbe Sarebbe bastato Renderlo come L'emissione del prologo Tutto scriptato così Era fighissimo Era Cioè anche se il gameplay Era un pochino più scarno Se me lo facevi tutto Come il prologo Era fatto Cioè per me Andava bene Invece Hanno fatto sto Hacking slash Praticamente Smashing button Devi fare Non lo so Mi è dispiaciuto un sacco Però quella roba lì Questa targhetta Abbiamo una canza Diamanti Diamanti Sempre su minerali Li mettiamo Si Minerali preziosi Non c'è un cazzo Tu li hai messi Tutti Ah ma te li hai messi Dai si fa qua la casa Dopo li porto C'è un sacco Di meauda I lapiscazzuli Quelli dobbiamo mettere Nella cassa Degli incantamenti Ah E' posto Poi di prezio La redstone Sinceramente Basta quella che abbiamo La buttiamo via E qua Yoshi Ho fatto un altro Microfono L'arco Ah me l'ha droppato Credo Fammelo buttare via Sto microfono Credo me l'abbia Droppato Il ciccione Adesso Buttiamo via tutto Il carbone Riempiamo tutto Qua Vedo l'ora che C'è della Playstation 5 Per Spider-Man Questa è un altro Dovrei farmi DLC Magari l'hai fatto Anche carchina Poco C'è un caccio sconso Metro ho giocato solo il primo Io Secondo ce li ho Ce l'ho ma non l'ho mai Anche l'altro Ho giocato a Tullizer Sì su Playstation L'ho giocato Quando mi pare c'aveva dato La chiave Ma tu ce l'avevi già su PC L'avevo preso io L'ho giocato E l'ultimo Era un pochino Rispetto agli altri Erano un pochino me Però Sì Però era figo lo stesso Come gioco A me era divertito lo stesso Devo rifarmi i piponi Tra i cubi di Redstone Che ho poi nello spazio Ma non serve un cazzo La Redstone Tanta roba Ok Che fastidio Mi è rimasto un cazzo C'è un enderman Di fianco a me Renzo non abbiamo tantissimo Ne ho altri Ne ho tre stacca a casa E due ancora Io l'ho buttata via Tanta calcio con i sabbi È stato detto qualcosa No E avviseremo molto meglio Per il fantacalcio E ci sarà maglia Da vedere più che altro Se il Luka Vuole farlo Diciamo di sì Teoricamente sì Adesso Probabilmente sarà molto 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 più ridotto L'inverno Sicuramente non faremo Tutte le squadre L'anno scorso Un po' perché appunto Vogliamo renderlo un po' più chiuso Più esclusivo È un po' perché È un casino anche per Luke Da organizzare Con 128 squadre Ha detto Preferirebbe farlo Intorno alla quarantina Poi sarebbe bello Trorare un modo Per giocare tutti Nella stessa lega Ma poi farlo Non ne serve tanta No no Nel senso Farlo in modo Che tutti possono avere Tutti i giocatori Che rimangono all'interno Di un budget Solo che mi fa schifo Quella modalità Preferisco proprio l'asta E ognuno Erebbero molte squadre uguali Il fatto è che Capace Che magari facciamo il Fanta Con voi sub E poi magari Io e Eliezer Nella vostra lega Non ci siamo Infatti avevo proposto a Luke In caso io mi faccio anche Più campionati Non importa Faccio volentieri Più campionati Se si può fare Ecco Un modo da giocare Con tutti voi Ho un i7 7.770 E una 1.080 Grazie Satollo Grazie mille Della Zotac Non lo scrivere niente Grazie Satollo Grazie Satollo Tanto io mi ci diverto Quindi 3-4 campionati Vabbè L'anno scorso Hanno fatti 3 Quest'anno Non ho fatto 4 Non ho caricato la casa Nostra E poi Le più sub E basta Eh faccia Pirate Grazie Faccio Pirate Quanto io mi ci appassiono Sto già studiando Mi sono fatto tutte le strategie Diciamo che sarà per i sub Molto probabilmente E per i sub Non Un mese Ma diciamo Che magari Se riusciamo a controllare Magari Diciamo qualcuno Che ci siede Effettivamente Da un po' Perché Poi l'anno prossimo Abbiamo un contatto diretto Con voi E però facciamo anche L'anno prossimo Magari faremo Quella cosa dei punti Lo mettiamo da febbraio 200.000 punti Clicchi e partecipa Sì potrebbe essere un'idea Anche per usare più i punti In maniera più sensata Così effettivamente Uno che ci segue Per davvero Sì anche se non è Swab Anche perché Non puoi dire Magari ha lasciato la live aperta No perché devi comunque Cliccarci tu Quindi Proprio l'unico modo Per capire Per avere il blocco di punti Sì devi cliccarci Io sto studiando Poi magari facciamo anche Una live Che chiaramente Non interesserà a tutti Quindi Quasi la farei solo per i sub Ma no La facciamo poi per tutti In cui magari vi parlo un po' Del fanta Della mia rosa Mi può interessare Ovviamente Mosso stone Come si chiama? Ah la mostone era la Con la maglia verde Ma le hai passate Ma le hai passate Tutti No Non penso di Ah la tirata di sfiga Ferru Ah guarda qui che sfiga Ebbè Sei apposta Così Amici Lo sapete che non sto trovando un cacchio? Lì dentro c'è un dungeon E' certo Felicottero Nel nostro canale Vediamo quanti Come gli aspetti E' andata veramente Sì Sfiga Dovresti Dovresti Ah Si glitchano pure Era rosa Quella Giorgio Scusa E' rosa Era in A crotone L'avevano fatto La bella La bestia Era in quel caso Va 18 di Entra dall'alto Sono molto voglioso Di fare le aste Quest'anno Faccio voglia Perché Rispetto agli altri anni È veramente difficile Quindi sono più invogliato Ancora giocare A pensare a una strategia Dirò anche una cosa Quelli che saranno Poi in squadra Cioè nel mio Fantacal Come si chiamava? Fantasodio Fantasodio Quelli che saranno Nel mio Campionato Chi mi ruba Dato un ali Ve ne fermo No No ragazzi Dovete offrire Ho lanciato la freccia Infocata Al scheletro L'infame di merda Poi è morto Nella sua merda Ricordai Vieni qua Grazie Non trovo più un cacchio Io Avete mai fatto il mantra? No Avevo un'intenzione L'anno scorso Ma alla fine Con Vertian Avevo detto Ma ritroviamo qualche lega Lo facciamo Però non abbiamo più Per chi non sapesse Mantra è una versione Più difficile Del fantacalcio Perché devi mettere Ruoli più specifici Le arti delle strategie Ancora più Particolari Altri diamanti Guardi Li sono tornati tutti Io ho trovato un canyon Adesso sto guardando qua Mi piacerebbe Io non ho trovato un cacchio Ho scavato veramente lungo Gli Ezra Eh eh Guardi ti stanno aggiungendo Ma sono tutti Uno di fianco a te Porca due una pucca Eh guys Non lo segue nessuno di noi Starebbe sentito E' il football americano Non ho mai seguito troppo Conosco le squadre Ma non ho quattro Ma neanche Mai stato appassionato Io uno di basket Lo vorrei fare Un dunk Però Lo farei solo io Poi comunque Non l'ho mai fatto Quindi Ma il fanta sarebbe Oli sub Su poco Certo Eh sì E l'idea di farlo Oli sub Tra l'altro Perché l'anno scorso L'abbiamo fatto In quattro e masi Potresti farlo Perché sei Sab da Due anni Quindi assolutamente sì Basta che Basta che non siete nuovissimi Dobbiamo avere un modo Per comunicare Sempre con voi Perché se poi Uno non mette la formazione Vediamo che non risponde Durante l'asta Non si fa sentire Lo cacciamo Ne prendiamo un altro Subito Perché dovete mettere La formazione Dovete partecipare per bene Se no non ha senso Più che si sbatte Si impegna E poi Magari tre o quattro persone Non Perché poi rovinate Rovinate anche il campionato Magari forse La tre o quattro Verso l'anno scorso Erano più di cento squadre Probabilmente già una decina All'inizio Non l'avranno messo mai No forse decina no Però C'erano tante delle squadre Ti ho raggiunto No vogliamo sapere chi siete Così vi cacciamo Magari un altro Che può giocare E sono Sì no ti ho raggiunto Anche se Anche per educazione Per educazione Rispetto nei confronti Di chi vuole giocare Al fantacalcio Perché Al fantacalcio Chi poi non mette più La rosa Se ne disinteressa Rovina il campionato L'altro anche perché Sembra facile Per gli uti Gestire tutte le cose Non è facile È molto lungo Come lavoro Vabbè in realtà Per sistemare le rose Non penso nemmeno Per organizzare Perché deve scrivere Uno per uno È una rottura No poi anche l'inizio Comunque Controllare bene Tutti i campionati Tutto Mettere poi tutti i punti Ma non bisogna Mandare il curriculum Adesso No Non serve il curriculum Basta sapere Innanzitutto siete subito E semplicemente Fate le cose Seriamente ragazzi Perché c'è gente Magari che vuole giocare Non può farlo Perché Poi avete preso Il suo posto prima E poi non mettete La formazione È una maleducazione Se non potete farlo Questo quest'anno Vabbè Aspettate Fate l'anno prossimo Con la storia dei punti Che magari Anche se non siete sub Ma ci seguite da un sacco Potete farlo Magari Poi ve l'anno Poi lo organizziamo meglio Il dangeone Non so se andare avanti O seguirti È un dangeo gigante Sei gigante Ti sei Perché io ho finito Il dangeo Proprio Perché è tu Ah aspetta Oh ne perdona Mi volevi mollarlo Eh un piccone Aciò te lo do io intanto In generale Dicevi Ah perché No per il sub Perché lui È sub Da sette mesi No vabbè Eh ma va benissimo Voi fate comunque In caso Ma ragazzi È cascato tutto Quando ci sarà Fate richiesta Poi valutiamo noi Ma Sì ma sette mesi Già Secondo me È una somma decente Che quello che dicevo io È che non fa Uno magari fa la sub Questo mese Esatto Proprio per partecipare E poi se la toglie Volevamo evitare Semplicemente che uno Facesse il furbetto Solo per partecipare Buona Ecco Uno o non sarebbe Niente così brutto Io non lo farei Però magari può essere Interessante Per gli Ezzar Corn Non so Farebbe Ok sono qua Con te Però Aspetta fammi segnare L'uscita Adesso Ovviamente Ci passa Devono passare Devono avere due spazi Orizzontali Ragni Quelli piccoli No No quelli piccoli No Quelli normali Mi sa di sì Allora Qui abbiamo Una targhetta E una sella Che bellezza Ragazzi Sì Non ti serve Adesso Ciscone Dall'anno prossimo Che cosa ha detto La cosa dei crediti La dobbiamo fare L'anno prossimo Un disco Trovando Non c'hanno Non c'hanno Che colore Tanto comunque A chi non fa il Fanta Non gliene frega niente Semplicemente non li spende A chi interessa il Fanta Ha un modo Effettivamente sensato Per spendere i punti Il Fanta E' un'altra Il lascio A terra Quando Luke deciderà cosa fare Poi Comunicheremo Sì sì Gli ho scritto ieri Ha detto che adesso Adesso vediamo come fare Ovviamente gli do anche una mano Gli diamo una mano anche noi Anche nelle formule Eccetera Farm di ragni Ma dove sei Ah ecco Lo puoi fare Amoro Per l'esperienza Eh l'ho fatta Devi arrivare easy Poi Ma qui diamanti Mi sa che siamo troppo alti La per i diamanti La per i diamanti Immagino di sì Però Ho trovato Perché sto dungeon qui E' finito E' finito la E' qua poi Non c'è più nient'altro C'è Lo spawn dei ragni E via Ah Quello qua di ferro Eh sì Quest'anno sarà anche un casino Perché il calciomercato Finisce dopo Che è iniziata la stagione Eh per quello che dicevo Sono hypato Eh probabilmente Luke Per il nostro Cioè per Quello con voi Che sarà un po' più complicato Organizzarsi Partirà probabilmente Già finito il mercato Si salteranno Le prime giornate Vabbè Non la so in realtà Perché mi aveva detto Eh ma poi dopo il casino Fare l'assa di riparazione Con Magari non la fai O non si fa direttamente Eh non la fai Si aspetta gennaio Torno a scavare gli zoni Lo so vediamo Anche Ho un attimo Un'occhiatina qui Io sono hypato proprio Per quel motivo C'è la gente che dice No è terribile Adesso Ed è giusto È un ragionamento Vero Nel senso Non hai sicurezze Che rottura Però a me piace Essere in difficoltà Al contacalcio Perché poi mi devo fare Altre strategie Ma qui c'è un altro Mi piace Studiare C'è un altro percorso Il legno Quindi mi sa che Andava avanti Il legno Quindi c'è la miniera C'è la miniera qua E anche dove ero io Ragazzi Magari siete alla mia Vogliamo Scavare verso là Fare una scavata Verso l'altro Per vedere dove siamo Ma dove Continuando la A destra Esci da lì a destra La live di consigli Per il fan Io la farei volentieri Il problema è che E appunto Non interessa a tutti E vabbè Quello per una volta Potrei fare una live specifica Viene a chi Viene a chi interessa Però la devo fare E sinceramente Farla prima della mia asta Non voglio Che comunque Potrebbero vederla Anche i miei diretti concorrenti Qua c'è la miniera Non voglio fare Non lo so Devo studiarmela bene Eh sì Qua è la miniera Eh sì Direi che Facciamo un'uscita Verso l'alto Da qua Vediamo il più in sci possibile Prima fantacalcio Sì Da Stasettimana Io sono entrato Da lunedì Da lunedì Mi sono messo a studiare seriamente Mi sono messo a farmi Il file excel Con tutte le Il budget Possibile Immaginabile Per spendere Grazie Mi ci impegno un sacco Grazie Grazie Matteo Grazie mille Grazie mille Grazie Matteo Io veramente Siamo abbastanza rodati Mi ci impegno davvero molto Perché Un po' come i giochi strategici Quelle cose lì Io mi ci impegno davvero un sacco Mi piace creare strategie Eccetera Scaviamo Sì non c'è niente Ma aspetta Farei di vicino là Ma in realtà Secondo me Allora E che Moro Non è interessato A seguire le partite vere Perché secondo me Dopo un anno Che riesce a capire Più o meno come giocano i giocatori Che tipo di gioco fanno Magari qualche partita La guardi anche per sbaglio Secondo me No no ma in realtà Ma in realtà ha fatto un buon campionato Buon fantacalcio Ha preso gente Si ha preso i nomi stupidini Ma ha preso anche gente buona Ma porca di una puttana Scappa Gli Ezzar Ce ne sono sette Ce ne sono Non è possibile Tre sono Ma che cazzo Falle esplodere va No soldi con i tab 20 soldi tra noi amici Ma alla fine non Vaffanculo Ma c'era l'assemblamento Porca di una puttana Eh ma perché sono uscito fuori In un punto Peccato che poi è tutto culo based Allora il culo Ragazzi Per forza Perché È ovvio Chiaramente devi essere aiutato a quello Ma vi assicuro che c'è un sacco di tecnica C'è di tecnica Di Di tattica Un sacco di strategia Non è solo culo Te lo posso assicurare ragazzi Che se non hai comunque la materia prima Che sono i giocatori È stronzo Tipo C'è gente che magari fa ragionamento Prendo più giocatori possibili della Juve Perché ha vinto lo scudetto Mai roba più sbagliata Puoi fare al Fanta Calcio Perché se fa una parità sbagliata Lì hai perso Mamma mia Che idea delle balle E fate anche io Prendo l'Inter Perché quest'anno mi ispira Prendo tutti dell'Inter Mamma mia Non lo fate mai ragazzi Mai Eh ma ci vuole un sacco a salire Perché l'anno abbastanza bassa O comunque un ragionamento del tipo Io ti fo il Milan Quindi prendo tutti del Milan Quelli della Juve e dell'Inter Non li voglio Eh ne perdi Ti fo la Juve e prendo tutti quelli del Perdi Io già ne prendevo un sacco del Milan Però va bene ne prendevo tre o quattro Non di più No ma l'errore che fai all'inizio Perché dici ok Conosco di più la Juve perché sono Juventino Mi prendo tre quarti la Juve Però poi ti rendi conto che è una cacata Perché la Juve perde 4-0 Tu quella giornata l'hai persa Poi non succede così spesso No finché ne prendi tre o quattro Della stessa squadra ci sta Perché comunque è la squadra forte Ma a Corne Allora guarda che Corne non è neanche eccessivamente Dall'Atalanta No no ha detto un saluto a Corne per il 16 Ma No però è vero Perché aveva senso anche con il mio discorso Però non ne prende così tanti l'Atalanta Ne prende 4-5 Credo Non lo so No per l'Atalanta Ok era per l'Atalanta allora No perché effettivamente Corne è molto Scusa l'Atalanta Gli piacciono i giocatori dell'Atalanta Ma non esagera neanche lui Comunque sia Per ti prende due attaccanti Tre centrocambisti Un difensore Sono già 5-6 giocatori Che sono tanti Per carità ma ci può stare Se poi ti copri bene ci può stare Del mare sento Sì E vabbè si fa una notata Fatti che vedere Che forse adesso mi servono più Con che esperienza Se vedo un cazzo Lizard Aspetta E le torce le porta via Perché Eh sì Perché l'acqua è qua È tutta acqua Peccato è tutta acqua Eh bisogna nuotare verso l'alto Lizard Quello che va giù fino in fondo Vai 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 Ti dico Sior Lo faccio da Lo faccio da 3 anni Quel lavoro lì Sior E mi sto trovando bene io Ah ok capito Dove siamo Siamo dietro a casa tua in teoria Prendere il portiere Eh però non possiamo più Nientrare qua Prendere a che squadra Eh no Dobbiamo Allora aspetta eh Ma è che facciamo prima A fare quel percorso sotto casa Mia è tutto dritto In realtà Ma più o meno però Cioè devi camminare un botto Aspetta Eh ma arrivare qui Fare il pezzo dell'alto E tutto più o meno Ci metti uguale No basta fare così Basta fare Ragazzi ma la pelle di coniglio Dove la metto Mi troppo di Valore Eh non lo so Marco Ziccati l'endokulu Prova Ma non ci sta Un po' di pomata Che sei E qui dove hai messo il coso Perché faccio il coso intorno Faccio il coso Adesso provo a venire più avanti Poi risalgo Sono arrivato penultimo In campionato Ma ormai Sono andato avanti Eh non basta avere Un bomber in squadra Grazie creeper E' arrivati Grazie creeper Grazie mille Grazie belli Non basta avere Immobile Ronaldo Ve lo posso dire Io che l'anno scorso Avevo Ronaldo Ho stato primo Fino all'ultimo mese Poi ho finito quarto Ok fa vedere Porto sempre quelle Io porto sempre Quell'esempio lì Perché è stato veramente Eclatante Vi può servire Perché a me è servito Vediamo se ciccio fuori qua Sono nella terra Poi ti va un attimo Campionato Ronaldo Alla fine Ok Qua sono giusto Ok Allora chiudo qua Fa tanto Uno bisognerebbe averlo Secondo me Però non basta solo quello Ti dovete pullare Perché avete il capocannoniere Perché non Eri Ah avanti Ok Siamo ciucciati fuori Allora c'è L'iceberg La mozzarella Si vuole una Salata Oggi la miniera Sì sì Oggi ci serviva A prendere Le cose Dovevo andare di qua Sei sicuro? Ho un percorso Con le torci Guardano pezzo Mi fido Mi fido Qui c'è tutto Il Kenyone Va bene Megam Non avrei bisogno Andare verso l'Iglu Bisogna andare No Su 500 crediti Punti tutto Su Ronaldo E Lukaku Poi tutto a uno Adesso rimane Giochi in 10 Quella savana La giù Dici Adesso Mi viene il 2 Suono me Perché l'Iglu Si vedeva da dietro Casa tua Quanto siamo qua 885 70 Mark Tu sei a casa? No no Sto pescando Le coordinate Eh sì Ricordo F3 Sì Allora Le coordinate Sono C 229 E 52 Che cazzo è C Ma no Sono quelle le coordinate Hai ragione Perché stavo guardando Quello Credevo fosse 543 63 Meno 130 Una volta Non erano sopra Le coordinate Aspetta Ragazzi Mi fermate E di là Vedi Ma perché c'è l'Iglu Quindi Non erano sopra Le coordinate Una volta Del Perché sono cambiate Ho aggiunto Una volta facevi F3 C'erano 4 scritte Adesso c'è tutto Il famoso ASC Una volta Con F3 C'erano 3 scritte Eh Brandy Ne parleremo Poi nella live Io ho detto L'unico giocatore Che voglio Voglio tornare Perché Cariorello E poi Chi sarà Mai Andiamo a vedere Grazie Panzer Grazie Ben arrivato Quanti oggi Nuovi Come è venuto Con questo italiano Il montanozzo Ecco Di là Di là Di là Ah Sì Al pozzo C'è Ah c'è proprio Vedo già la casa Potremmo farci Delle bussole Effettivamente Una ampolla Di cacca Ma ora si può fare Ritagliare così Nell'acqua Andare da dietro Casa mia Nell'acqua E siamo già arrivati Ma ho fatto Un po' Con la barquetta Allora vi spiego La cosa che ha detto Liesa Perché fuori contesto Eh non la capite Se no Su fantacalcio.it Ogni giocatore Ha un disegnino divertente In base al suo nome Tipo lasagna C'ha lui Che tiene in mano Dei piatti di lasagna Ronaldo C'ha i palloni d'oro Tonali Siccome dicevano Che assomigliasse Ad Ivan Driver Lo cercate Tonali C'ha una cosa Di Kylo Ren Con la spada Di Kylo Ren Cercatola È identico a Kylo Ren Sì Assomiglia molto Assomiglia molto Sì E quindi gli hanno messo Il costumino di Kylo Ren Con la spada L'anno scorso Ce l'avevo io Liesa Ma ha dato sua madre Anche per averlo Questa non lo prendo Da dire che però Anche senza quello scambio Io ero comunque primo A parecchi punti Perché appunto Tonali gioca molto bene Ah comunque a prescinde Se fosse lo scarsone Non lo prenderei Ma in realtà è anche forte Il giocatore È chiaro Se era uno schifo Non ha senso Abbiamo un sacco di pesce Vado a prendere le robe Così le porto tutte qua Di amante C'ho un libro incantato E c'è qualcosa che se li alzi In culo Si arrabbia Ma io devo alzo lo stesso Perché ti ho detto Non è che ho posto Qui era in culo Cos'è che poi c'era Eh voglio fare tutti i nomi Con un culo Che io alla fine glielo lascio Però glielo voglio alzare un po' Perché a uno Non glielo voglio Beh ma non fare anche partite schifose Poi in realtà Un assist a partita Più o meno quasi Lo fa Tonali Aveva fatto Come io che avevo fatto Rincon e Ionita Nel Nel fanta di Luke Avevo Rincon e Ionita Che posso farlo Anche quest'anno Ragazzi Si può rifare Rincon e Ionita Anche quest'anno Perché sono tutte due in A Te la consiglio Come coppia due Uno a testa Vi fate la coppia dell'anno No Una partita No ok Però non Era difficile Perché faceva delle partite schifose Poi considerate che giocava nel Brescia Cioè Guardate anche quello Non è che era proprio Puoi pagare giusto uno Non era nell'Inter O nella Juve Ok Cioè adesso che va nel Milan Già Si può ragionare un po' di più E Moro voleva prendere coso Chi era quello che Manzuki e Iguain Che non poteva però Cioè non è vero Un anno poteva farlo Quando Iguain era al Milan C'era Iguain al Milan E Manzuki ce l'aiuto Tutta la live di ieri Ma ho parlato da Xbox Si ragazzi Ma stiamo parlando in realtà Ogni mattina di cose Come dicevo l'altra volta Sono contento perché stiamo parlando Veramente tanto con voi Nelle ultime Beh l'abbiamo sempre fatto eh Di più In questo periodo Di solito il cibo L'argomento principale E anche il monza Sono curioso di vedere il monza Se arriverà in serie A Ma sono Curioso eh Moro cosa mi dici del monza Eh il tempio della città Anche nel caccio No lo so No Il cazzo lo devo prendere Il lapiscazzuli Il lapiscazzuli Eh prova a vedere se si può fare l'altro Beh parlando di lasagna si parla di cibo Infatti me lo lasceranno a uno Ah non lo so eh Eh guarda Posso arrivare fino a tre Eliezer Poi te lo tieni Lo so Io devo ancora vedere bene Va bene che è il mio pupillo Per scherzo Però adesso Spenderci i soldi veri Ci sta a rialzarlo Perché è lì Ma poi il monza C'ha finotto in attacco Io lo voglio Finotto Mi fa ridere Ho fatto avere finotto al fantacalcio l'anno prossimo Oh Eliezer Poi vai a mettere questo nel jukebox Oh no ci dico Mi ha segnato contro il Milan finotto tra l'altro Eliezer L'unico gol del mondo L'ha fatto finotto l'altra sera Ti prenderò mal di giugno Magari gioca quest'anno Cioè io da tavola ho le mie teorie Non te le dirò mai Vol daranno via No ma non credo Eliezer è anche un concorrente Devo stare attento Eh sì Allora Hello Sfinotto Ma che tempo di merda però Allora Amici qua fortuna del mare è una bugia però eh Mi trovate un oggetto Ah ha 18 anni dai povero Baldì Ma che partita hai visto Massimo Al massimo non gioca tanto Perché è un ragazzino ed è giovane Ma fa caccare Mi sembra proprio una bugia Eccolo il cd Oddio è quello Conquittante Te l'ha trovato in mezzo ai ragni Allora E sfortuna del mare Ci vede che non ho letto bene Sì Stilo su uno scarpone gigante Chiama il nuovo Maldini non mi ricordo Non mi ricordo neanche io Paolo No Paolo Maldini Bene Giacomo ma non è vero Mi è inventato probabilmente Mi va bene con Mazzonà C'è Cesare Maldini Paolo Maldini Tra Giacomo per forza Un altro nome Daniel È vero Daniel Daniel Maldini è terribile Io faccio una strage di gocche Vai la mattanza Ma non con Maldini Anche a me piace Daniel Sono libero Sapete che stavo pensando Perché mi è venuto in mente Pensando a Paolo Maldini Ma Paolo Recentemente Viene usato Io ho un po' che non vedo Ragazzi giovani Che si chiamano Paolo Sì Ma forse sono io Semplicemente Non mi ho mai incontrato Vabbè adesso siete di più Dari nomi esotici O americani Ma basta Non ci sono E' quelle grandi Sì Paolo era il mio cavallo Paolo era il mio cavallo Su Del Breath of the Wild Ma vieni a prendere Anche qui Nel recinto piccolo Perché abbiamo fatto Sto recinto Sì Non serve a un cazzo Ti devo dare due di pelle Anche io Ma non so come fate A dire robe di maldita Ha giocato Secondo me non potete dirlo Ancora è troppo giovane Ragazzi Beh Glizer questo Come quando gli esaltano A fenomeni Stessa cosa Gli esaltano Il contrario Secondo me è troppo presto Dammi la carne Ehm Dove Qua Ehm E' troppo Messa giù Lì Oh prendi la pelle Aspetta Sono due anche io Ehm Non so quanto ci faccio Però Ehm Che non mi è da disgraziato Paolo Banni Ma non è possibile Glizer L'hai fatto scappare una miucca Eh lo avranno Visto giocare in primavera Ma non è la stessa cosa Beh Eh si sta più freschi In primavera Questa è una La scimmia ma è un ragno La rampica mi è venuta in mente la scimmia Legna l'abbiamo? Non abbiamo legna Ah no Dobbiamo Sì Mettiamo un po' di alberi un po' più vicini a casa E li abbiamo estirpati tutti Ma c'è tutta qui Tutto il moschetto qui di accanto Eh ma dobbiamo anche Eh vabbè ma lì C'è casa mia Non abbiamo C'è il bambù qui fuori Eh ma non so se basta Porca miseria È tutto cresciuto Allora Perché la gente dà Dà della pippa A qualsiasi giocatore Perché sono tutti Sono tutti cappello Sono diventati ormai Io invece non ragiono Così Cioè voglio Vedere bene un giocatore Prima di Anche per l'MBA vale Per me è così C'è l'altro incazzato questo Mi ha rubato l'esperienza Eh Marco C'ho 29 di esperienza Io sono 9 Appunto Sono più prioritario io no? No Come no? Sono quasi al 30 Appunto Io ci devo arrivare Adesso vado in miniera e muoio No vado a pescare un pochino ragazzi Dai Peschiamo un po' Tieni qua Vieni Dammi la cacca da pippo Dove cazzo sei? Questo creeper molto pericoloso Questo chi è? Marco Prima di cui si è uscito Una gangbang da tripla Dai Give me the Give me the church Give me love Give me love Vado a fare un po' di esperienza Combattendo come un vero combattente Combattente Ma non ho più lo sfudo io No Mi sa che mancano due libri Forse Eh lo vedi ma Diego aveva effettivamente Molta tecnica Ma se io do la polvere d'osso alle mucche crescono Le posso far crescere con la polvere d'osso? Grazie gatto Grazie gatto Grazie il gatto Se lo metti per terra puoi fare l'erbetta Con i fiorellini Ma però ho quattro di libri Vediamo stasera mentre catti Vedi? È il tuo mom Mom Dobbiamo ancora decidere Esattamente cosa vedere Mi mente delle robe ma Ezra fai una roba Vai a caccia di mucche Allora intanto fai rientrare quella mucca piccola Che è lì che gira davanti Che l'avevo uccisa Non pare che uccidi le mucche piccole Perché sono uscite Dovrete messe le ampolle vuote ragazzi Giù nella cosa del No è nella cassa dei drop Mi sa Dobbiamo fare Dobbiamo mettere l'ambico Che un alambico ce l'abbiamo Cassa dei drop I drop dei bastardi Poi abbiamo un osso Abbiamo tante ossa No Leonardo Il libro Il libro incredibile lo metto Marco incantato Marco Benvenuti a tutti Indistruttibilità 3 È ormai anche il mio Allora a posto Io ho infinità Impatto Fiamma Potenza 4 Indistruttibilità 3 Potenza buona adesso Che zara stai pregando? No sto cercando la torcia compresa Che non trovo Comunque ieri ho recuperato La red di minecraft su youtube Marco è quando sei morto Nel nether Ma l'arco Ho esclamato che culo E come Ma si vedeva che mi Era rimasto l'arco allora Era dietro il portale No in realtà l'arco Ma questo L'arco Credo quando sei morto Mi è arrivato subito Nell'invento Dove sei che ti aiuto Andiamo a dormire Ma quanti ragni là sopra È un ragno con uno scheletro Sopra con l'arco incantato Che ho uccisi i ragni sul tetto Non prenderemo mai l'esperienza Andiamo a dormire Andiamo a dormire con la Ma volevo dire Volevo dire qualcosa Non mi ricordo C'è indistruttibilità 4 E' una roba Che sopra è un botto di livello Però Un ragno qua io Buongiorno a te Amici un giorno mi verrà in mente Cosa che volevo dire Morirà prima di arrivare Questo pezzo di menta Ah si Un ragazzo ci ha detto Su youtube Che Anche se Avessimo menato Quello che mi stava picchiando Al portale Non ci sarebbero Non ci sarebbero Non ci sarebbero Per forza attaccato Perché sono due tipi Di porcelli diversi Con comportamenti diversi Però Probabilmente sarei morto Lo stesso perché Mi ha dato una botta Incredibile Non so se avrebbero Fatto comunque in tempo A difendermi No lo so Io so Eh scudino Grazie scudino Sei molto scudino Grazie per i quindici Sia che botta Grazie ma io voglio Smetterla di saltare In questo Sono tre mesi Dalla nascita Del termognomo Si Oh Grazie mamma caffè No Grazie Grazie mille Tre mesi Grazie per i tre mesi Bentornato Bentornato A ta Per festeggiare questa cosa Ragazzi Toglieremo il termognomo Beh si Il termognomo ormai è passato Oh Questo era male Si Termobest Termobest di agosto Esce oggi Tra le piumette A casa Ma abbiamo più piume Ma come Eh ragazzi Eh no Basta Doveva essere Molto temporaneo Anche il trenino Marco Doveva esserlo Libro incantato Vediamo Potenza 4 Non male Posso registrare In tutto 12 suoni Oh Eh Luke attualmente Da penso un anno Quasi un anno Dall'inizio di quest'anno Fa sempre lui i video Sì 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 Assolutamente Per lui di montare Abbiamo preferito fare Questa cosa qua Perché è più professionale Nel senso che Lui è più bravo E in più Ehm Ci dà la possibilità A noi di stare un po' più rilassati Durante la settimana A farci le nostre live Anche pomeridiane Sarà le un po' più liberi Affilatezza 3 E poi appunto Ci si divide meglio il lavoro Perché gli uki lag Non ci può essere Perché non ci può essere Sempre E almeno riesce a montare Comunque i video A darci una mano Aspetta Amorex Potete fare una farm Di hogling Nel nether Però lo recibo anche lì Sì Vabbè ma non serve Forse farm È veramente Il wipe dei farm Questo Cazzi sono finito In una grotta buia Tempestosa Una farm di mod Facciamo sì Ehm No ma sono I pesci dove sono finiti però Mo Dov'è arrivare al livello 30 E fare Il piccone Di diamante Incantato Con silk touch Ma torniamo Torniamo di là Mo Ragazzi Sono quasi al livello 30 Io Allora Fai lì E poi andiamo di là C'è che poi fai lì Faccio qui Poi il livello 30 Non c'abbia le librerie In realtà In realtà è quasi finita Le mancano me E appunto Vai Grazie Dezino Grazie Dezino E ma non è facile Trovare le mucche E dietro casa di Marco Se continui Forse ci sono un po' di mucche Provandola a vedere Sì è vero E dove sono io adesso? Sono finito in una grotta Lì di In quel posto lì No c'è Il disco È il disco Nel jukebox Un altro libro incantato Carica rapida 2 Quella è la balestra Mi sembra Sì Che non ho mai utilizzato Per davvero In una run Nel senso che È comunque lenta E Preferisco La velocità dell'arco Bisognerà che provare Una balestra Con la ricarica Maggiore possibile Vedere se effettivamente A quel punto Può avere senso Perché così Anche i cavalli Danno la pelle Mi pare Vero? Però non conviene Ammazzare i cavalli Secondo me Ma perché Tanto non servono Un gazzo Magari ci vogliono I notte Sappiamo dove andare A prendere altri Sono più libri Che pesci Sì Muore il cavallo Se esce il kraken Si ammazza Nella riva Tanto Ragazzi Tranquilli Poi Non possono Un arco incantato Indistruttibilità 3 Potenza 4 Eh Non so già Sul mio Infinità E posto Non è buona Gatto Non credo Puoi mettertela Sulla sinistra La balestra Non penso In teoria Puoi cambiare Poi E' fatto per I mani Ah per switchare Vabbè Però non puoi sparare Mentre hai la spada Nella destra Quello non credo Anche perché per ricaricare Ti fa l'animazione Che è il mezzo Anche Anche l'arco Anche l'arco puoi Metterlo A sinistra Ho preso un po' Di ferro Anche Se avete la mola Potete Levare gli incantesimi Dai libri inutili E farmare Ah si Ma allora si può Fare quella cosa lì Credo ti distrugge Proprio il libro Non è che ti toglie Un incantesimo Marco Allora Non ho capito Ti dai esperienza Ti dà E basta Se trovi libri inutili Beh si Effettivamente Si può sparare Mentre hai la spada Mi pare Dice Fedez Assoluto E ce n'era una sola Mai provato La balestra con tiro Multiple Carica rapida Fa i buchi Nello zone Eh se lo trovo Lo approvo Ragazzi In questa run Dai Magari do il mio arco A uno di loro due C'è qualche balestra Nella cassa Eh ma non abbiamo Mi sa Non abbiamo i bonus Che c'è scritto lì Beh carica rapida Ce l'abbiamo L'altro cos'è Tiro multiplo Non so Pari più frecce Però ti serve infinità ragazzi C'è infinità Nella balestra Eh spero Perché altrimenti Finisci tutte le frecce Così No ti lascia Libro Ah beh Libro vuoto ti dà Quindi toglie l'incantesimo Che altro ragazzi Cioè altrimenti Se non con i boss grossi Con i mob piccoli Perché dovrei usare Tutte quelle frecce Uso l'arco Ma la mola Si può craftare O si trova solo Dai villager Perché proviamo subito Vediamo subito Ragazzi come sono morto Nel nether però Andiamo a farla allora Nel nether sono veramente Ho aperto il portale Che ancora stavo caricando E capendo cosa stava succedendo E mi hanno preso a calcio Facciamo i libri così Allora aspetta Immagino mi servirà La pietra E anche del ferro Ho delle uova Quello è uno scheletro Due scheletri Come si fa la mola Ragazzi Legno Stecchi E uno slab C'è Si fa così la mola di Torino Certo Cosa mola di Torino Uno slab di pietra Di pietra o di pietrisco Aspetta Dei cavalli Di tracotta più cotta Ce l'abbiamo un po' di pietra Andesite Ma non l'ha Di tracotta più cotta Quindi devo ricocere anche questa Ragazzi topperoni eh Ho preso ben 32 di pietra Ne date due di pelle Cavallo Quanto ho visto infinità è solo per l'arco Ma tiro multiplo consuma solo una freccia Qua c'è una pecoa E' una mucca L'hezzata Questa è pietra E' uccidio E' uccidio Quindi non serve questa E' uccidio E' un po' volessi portarlo All'acqua No 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 Uccidile subito C'è anche pecore qui A parte che devo tornare a casa Come si fa? Solo tre pelli Faccio Mancano altri Forse mi sono perso Ok ho trovato a casa mia E' andare a prendere gli uccelli Quindi mo Come si mette? Immagino Una slab Così Guarda Due stecchetti E tre assi No L'astra in alto Due pezzi di legno Sui lati Ciascuno Con uno stecco sopra Sono due pezzi di legno Sui lati Ciascuno con uno stecco sopra La slab in mezzo Ok E' fatta E' la molla E' andata a dormire Non possiamo qua Anzi Mi sa che mi conviene A sto punto Perché c'ha due spazi Tra l'altro Mi ha dato un po' di esperienza Si Bestia quanta Vado a dormire io No non me la dava Nel crafting del secchio Sto dormendo E' la pulabusso Alle porte del buio E' Giorgio Puoi riparare anche le armi a metà Surgeon simulator Se funziona Basta No eventualmente Andiamo su rock company Vediamo un po' Ah funziona da Ma funziona da Scusami Funziona da Incudine Ma non mi Non perdo Livelli Non mi prende Gli incantamenti Posso solo riparare Le cose base Ma allora lo voglio fare Anch'io Scusami E' una roba portatile O è una roba Che si mette per terra No è la molla Ah ho capito Ho capito Ho capito Carica rapida Lo lascio Quindi Lo tengo Il libro Vedere che libri inutili Abbiamo Sto prendendo un po' Di legna Comunque Verso la betulla Perderò Tantissimo Un'esplosione Questo lo buttiamo via Aspetto di fuoco Lo buttiamo via Affilatezza 3 Quante pelli hai Mark? Ma gli ho Sto facendo Direttamente i libri La mucca mi ha dato Due di carne Comunque Alcuna pletarla Va sempre bene Ho preso Di legna 45 Servire poi Vediamo Perché non mi ricordo Dietro Fa la strada No ma non è Non è per l'esperienza Li ho fatti Per avere proprio i libri Poi per fare le librerie Come si fa? Tre legni Tre libri Tre legni Sì Ne faccio due Ne faccio Un libro Una sacca L'inchiostro Che è un libro Dove puoi scrivere Tanti cose È vero No che sono abbastanza Spero che si può fare Quella cosa lì Che non mi serve Però In casa Le foro Trovato Altro ferro E altro Vado giù Il libro dove puoi scrivere Sì sì Non so Che non serve molto Purtroppo Se non fai adventure map O cose del genere Ok Manca l'ultima libreria Che arriva Rivolto Sante pelle Poi dopo ti fai La spada O il piccone Moro qui 30 Piccone 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 è più utile Se c'è il piccone di diamante Nella cassa Tra l'altro Arrivare Capidente Ricc Prick Era un nemico In arrow Crick Prick Si chiama La ciccia Drop dei bastardi I drop dei bastardi Adesso facciamo Subito L'ambicco Modo Ragazzo L'ho messo Guarda In caso Lo rifacciamo Cos'era facile Da fare O ci volevano I blade C'è la roba Magmatica L'avete messa qua Ma non va qua Perché questa È tutta roba Che serve Per le Puzionkin Brazzata Puzionkin è una cagata pazzesca bravo io toby dance io toby dance fantozzi siamo tutti noi per davvero ragazzi stessa cosa che avremmo detto a noi questo è il discorso di io ha partecipato a più puntate di Arrow ragazzi Quadiroz ha fatto un personaggio abbastanza presente soprattutto nella settima stagione ma anche prima ha fatto un nemico questo coso qui è l'alambicco e Steven Amell Steven Amell in quel periodo ha partecipato a Summerslam in coppia con Red Arrow che era Neville perché c'è la pelle di coniglio qua nella cassa di drop e tra l'altro la stardust è finita sotto ricordo si chiama la stardust o come una roba del genere una droga che c'era in Arrow e la spacciava la roba del caso nelle casse guarda quali? questo è l'Ezza io sono non è possibile perché c'ho la sindrome per quelle cose l'Ezza i libri ce n'era uno da una parte uno da un'altra ma come è possibile che ne avanzava uno da una parte e se non hanno i materiali preziosi uno libro sta roba qui non è possibile che sono io perché piuttosto mi cavo gli occhi guarda e gli alberi tagliati no Arrow è arrivato a 8 season non 7 l'ottava è stata l'ultima è stata anche più corta è durata a metà io voglio gli zainetti su minecraft non la cacchio di cassa dell'ender drag io voglio lo zaino piuttosto me lo fai anche difficile da craftare tipo ci vogliono pelle 4 diamanti ma voglio lo zaino fatto gli zord non lo so red ah io ad esempio col piccolo normale avrei fortuna 3 ma col piccolo normale quello di diamante l'hai preso? hai c'entrattato? no questo qua è quello di prima no vai su prendolo dov'è? nella cassa non mi ricordo è qua eh lo so che c'è lo shunker ma quale è la fregatura è che lo prendi quando hai finito tutto quello che devi fare in minecraft e allora metti la piscazzoli quando batti il boss lì che poi hai già fatto tutto e mi ho preso la sacchetta per tenere le balle efficienza 4 mi dà il 2 mi dà fortuna 1 dici che il 3 mi dà anche fortuna 1 visto che c'è nel 2 no cosa ma lo ripeti che stavo leggendo livello 2 di incantamento mi dà fortuna 1 eh il livello 3 mi dà efficienza 4 quindi tu dici se vai boh ragazzi fai il 3 dicono prova a togliere il piccone e rimetterlo ah già è vero no ma non funziona più una volta potevi fare adesso non funziona più in teoria eh anche io prenderei fortuna ragazzi ho preso un botto di legna eh cioè magari 64 più 36 ho anche un sacco di erboscelli mi prendo anche un sacco di carbone eh se incanto qualcosa prima del piccone perdo il livello però fortuna 1 fa schifo dicono c'è già qualcosa c'è la giallezza la fortuna 1 eh però è uno eh ma anche il meno anche la fortuna 1 comunque preferirei avere meno efficienza ma più fortuna guardo eh ma fortuna 1 c'è la giallezza prega tu fai tu tanto capito beh però tanto serve solo per prendere i diamanti a sto punto te ne fai allora potete metterli assieme volendo effettivamente però è sempre fortuna 1 c'è nel senso no in realtà fortuna 2 hai ragione si 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 potete potete provare al massimo lasciamo ci facciamo un piccone appunto uno solo potentissimo poi magari ce ne appena abbiamo un po' di diamanti ce ne facciamo una testa se proprio si fezza ragazzi quanto carbone che sto prendendo anche è stata molto proficua questo tipo si mi da altri bonus ma infatti io volevo fare il 3 per vedere che altri bonus mi dava quasi quasi tanto poi i livelli li rifaccio alla svelta dai proviamo a fare il 3 sono nel posto dove ho perso il guinzaglio cadono i pantaloni efficienza 4 e basta mi ha dato però adesso non lo posso neanche più incantare ma ha dato solo quello ma dazzo per carità efficienza 4 sono un trenino eh ma se non hai indistruttibilità lo finisci anche subito il trenino non c'è un cazzo con indistruttibilità se lo prendo dall'arco in teoria non posso se lo faccio non è lo stesso bonus no non è lo stesso arco cioè non è lo stesso tipo di coso ragazzi tra un po' torno al 30 pure io puoi fondere se lo fondo cosa mi ridà i diamanti eh ma ti ridà i diamanti ma mi sa che non ti ridà tutti eh ah no lo posso nella mola nella mola dite gli posso togliere l'incantamento sì oppure aspetti appunto come dicono i libri vedi se ne capita qualcuno anzi direi che torno a casa già non so se riesco a tornare a casa mettiamo qua allora per adesso sa che non riesco a tornarci a casa dammi una piantina di betulla e dammi una betulla se torno a pescare no se torno a pescare manca un po' di gente in giro efficienza 3 efficienza 2 fortuna 3 mi dava il piccone di ferro a livello che è che l'ho promesso io probabilmente vado a dormire ragazzi volete andare a dormire per davvero sono già a dormire ma ammazzate un po' di gente fate le esperienze ma no io vado a scavare adesso anche io ho fatto il piccone di ferro con efficienza guardate che sto esco dall'acqua e anche la mia ragazzi sempre lì gigante scusate un attimo ragazzi esco che mi stanno richiamando non ho capito quando è dormo cercate di fare un piccone tocco io al luto sì anche quello non credo gustav no grazie ma non si è mutato ha fatto bliblop ma non si è mutato bliblop io vado dietro casa e raggiungo la zona adesso sentiamo un gran scorreggione secondo me da Marco come si arriva da te senti che bordello ma devo ricontrollare adesso ma adesso ho incantato il piccone di diamante non mi dava non lo posso più incantare ma no ma quello di ferro che hai appena fatto Marco non ti sei mutato sì no avete sentito io spero di sì ho sentito solo delle botte dei pugni non vogliamo niente e robe del genere è stato molto divertente la conversazione ho risposto ma è da ieri che mi chiamo a sto numero oggi ho risposto e mi fa blotto perché noi siamo la filiale che però poi no perché guardi scusi c'ho da fare non ho capito beh vabbè però perché però ma non capisco però la prossima volta magari dove devo andare mo ah non ho idea ragazzi mi ha dato efficienza e indistruttibilità ha detto qualcosa tipo stiamo offrendo persone per gente per cuore buona buona ho detto ok una promozione di qualche cosa però non si capiva veramente niente ragazzi devo rispondere con Steve Jobs Steve Jobs ha detto chiamo più tal di sal ma che chi mi chiami non era così lontano non devi chiamare più tardi ti fermabanno se siamo persi ma era perché il ghiacciaio è sempre lì una tartaruga c'era della terra dove eravamo non mi ricordo ho messo le torce poi no ma c'erano anche le isolette là andiamo torniamo indietro una tartaruga buonasera 7 gigabyte di Sea of Thieves dice gatto oh vabbè domani almeno se però lo sappiamo sì poi domani ce ne sarà un'altra è sicuro perché quando abbiamo la 12 ore deve succedere qualcosa sicurati se con una 12 ore possiamo farla senza pezzi che ci rovina qualche gioco senza qualcos'altro dove cazzo è qua ah era lì ah sì no non si sa se esce adesso l'aggiornamento di rainbow no di rainbow han detto che forse sarà rinviato tra l'altro che non stanno dicendo niente quindi magari hanno avuto dei problemi una parte di tartarughe tra 3 2 ovviamente non ho beccato nessuna tartaruga l'isola qui è finita ma già ma come possiamo no continua qua sopra è venuto in mente chi mi ha ricordato il ragazzo al telefono era il traduttore di nakata e li avversai o perché poi la partita l'avversario e l'avversario l'avversario ragazzi no aspettate allora io vi devo assolutamente far sentire un'intervista post partita di luis alberto con la lazio vi devo assolutamente far adesso finisco qua poi devo assolutamente farvi sentire questa perla e soprattutto insieme cercheremo di capire cosa voleva dire cosa avrà voluto dire con quelle parole farlo subito che poi ti dimentichi aspetta vediamo lo disconnete bravo merda questa mineralizzazione ma io stanno andavanti sì però ho trovato una cassa allora ma cerco spero che ma non era il mago luis alberto luis alberto non era il principe ah no era il mago forse si hai ragione il principe alberto pensavo gliel'avessero dato goliardicamente probabilmente è andata così un attimo che devo non la devo cercare per ridere la prima volta che l'ho sentito non ci sono fessure ho trovato una cassa libro incantato passo anfibio passo anfibio e ti fa stare sott'acqua di più o vai più veloce no vai più veloce sott'acqua mi pare o vai a capire dove era il link qui c'è il mago è il mago ok quanta roba qua forse mezzo diamante almeno invece lo sto trovando giustamente se scrivo luis alberto nel gruppo del fantacalcio vengono fuori tutte le partite in cui abbiamo scritto gol di luis alberto assiste luis alberto quindi vai a capire tu ti ricordi non è che ce l'avevamo nella chat aspetta forse ce l'avevamo nella chat con Vector potremmo 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 averlo nella chat con Vector ringrazio di aver trovato tutto quell'oro così dispendioso e di oro mi ha vibrato il telefono mi ha iniziato a vivere pensavo fosse il tetamoto fiocco ce l'ho ce l'ho che miseria e adesso dopo la partita a Roma ha successo dopo la partita fiorentina tantissima partita che dopo non possiamo noi un po' di corpo a loro e loro a noi puoi fare qualcosa ma ragazzi non lo so io sono ancora infartato da prima era una partita sicuramente c'era una partita in atto quello ti hai sentito c'era una partita poi dopo c'è stata un'altra partita un'altra partita tanta partita ragazzi è fantastico è veramente la miglior cosa io penso lo riprenderò al fantacalcio solo per sperare in un'altra intervista post partita e dopo la partita e poi la partita era un'intervista post partita di un calciatore della Lazio chiaramente non è italiano poraggio non lo so ancora benissimo e approvato chiamare un concetto fortissimo l'uso Alberto nell'edere i pigling basta non considerarli di indossare almeno un pezzo del matelo d'oro sì ma è quello che facciamo sempre sì non è vero non bisogna neanche scavare l'oro l'oro mi sa che attivi gli altri dicevano mi sa che sono due diversi non lo so un ragazzo ci ha commentato sotto la live sono i pigling e i pigmen in teoria quelli dell'oro sono i pigmen e quegli altri sono quelli dell'oro sono i pigmen in teoria sei sicuro? no sono sicuro devo andare a recuperare i commenti sono quelli che i pigling sono quelli che non ti attaccano se c'hai l'elmo d'oro eh ma mi sa che loro con l'oro non ci entreranno un cacchio quello del da droppare lì ragazzi vanno a controllare se non mi ricordo bene ho raggiunto uscita un attimo amici oggi sono il recuperatore di file e di link questo è il moro by night dubito questo è il marchi i piglin e i pigmen zombie sono due fazioni di mob diverse se attaccate i piglin quelli vivi con l'armatura d'oro con cui fate i trade dandogli l'oro non vi attaccano anche i pigmen ma solo tutti i piglin e le vicinanze quindi si poteva benissimo aiutare marchi quando è modo vabbè quello penso comunque non ce l'avreste fatta però quindi in teoria se tu fai quel lavoro lì si attaccano solo i piglin nelle vicinanze i pigmen no ti lasciano stare però c'entrava con quello che abbiamo detto però infatti non mi spiega comunque se lo spiegasse effettivamente la roba delle pepite perché marco è stato attaccato dai pigling perché ha preso le pepite perché c'avevi l'equipaggiamento d'oro esatto io sono proprio attaccato perché non avevo l'equipaggiamento d'oro no quella volta ce l'avevi l'equipaggiamento d'oro no non ce l'avevo no sono imbecile di merda io sono entrato nel portale ho detto ok adesso entro nel portale e mi organizzo l'inventario appena sono entrato era dietro ma menato anche perché avevi presunto la roba d'oro dalle casse che mi potevi dare tranquillamente solo che non abbiamo avuto proprio modo sono entrato ma menato subito c'è una cacciara fanno barca mutana ciao erraico ciao errico merda no come si chiama che bello non lo vi chiaramente anzi grandissimo come non lo vi chiaramente anzi chi quindi è un altro errico uno che mi dita tutte le palle sono messo il tuer non è vero io l'ho followato anche lì su twitch so anche che adesso fa un dottore con te con me se dura un altro giorno non è tanto però non so altro purtroppo non so la lore intrisca però le volte che l'ho guardato diceva queste cose ma senti quanti versi ma come sei arrivato adesso mi sono offeso è certo che ti sei offeso ma chi è oh ma questi dove cazzo cicciano fuori e vaffanculo dove erano i pesce palla non mi ricordo più ma c'è il buco d'interno mani la baratona l'olio erano sotto i pesce palla ecco perché non trovo le due ore che apro casse mi fa male la testa no non sono neanche giù nella cassa si si è nascostissimo c'è il muretto non l'avevo vista con i piglin non dovete nemmeno aprire le ceste vicino a loro vi attaccano eh madonna anche se avete l'armato da loro ma chi è che è per loro qua stanno ruttando come uno schifo che caratteraccio e che gambe ragazzi eh qua sopra si va sopra che puzza di mutande lavate stirate col detersivo blu domani ci dobbiamo domani la live partirà le serie alle nove le serie che si fanno durante la settimana non saranno fatte una domanda ragazzi quanto carbone c'ho non è possibile rossa di pripa le uova che le butano non è possibile quanti siete ragazzi un piccolo gallina totti allora il carbene non c'è non c'è la casa del carbene ma come l'hai detto prima che esplodesse quanti sono quanti zombie ragazzi facciamo la cassa del carbone oppure faccio le iblo ma mettilo mettilo tutto fai i blocchi fai poi faccio subito si risparmiamo immediatamente lo spazio e la partita e la partita la partita la partita la partita e sopra c'è un botto di caccia ragazzi abbiamo 64 blocchi di carbone e carbone leghe i poi la legna la lebra non è possibile ragazzi ho portato un sacco di legna ma del culo pure poveri mai più poveri ho finito le torce oh no lizard fammi fare le torce che c'è uno nudo lì pianto anche qualche alberello al pratino torno crematorio mettiamo questo posso tornare alla caritas ganjalf c'è uno nudo hai pulito e mi prude il cacchio ah se è la lava lì sotto si oggi hanno scambiato moro con marche ma non credo sarà la prima nell'ultima volta poi ho detto tutto però avete capito il senso messo un po' di alberelli percorso incredibile qua ah c'è lo spawn qua è perché di zombie non lo so effettivamente c'erano un nasa al pratino dal pratino ancora ma dal cd se lo rompo no devo destitularlo nelle casse il cd ho avuto la carne cotta uccidendoli con il fuoco ah perché sono i ragni velenosi questi no questo distruggiamolo mario detto ob work ciao pier buoni fornè ma questo è un trenino di cacca non so cosa mangiavo c'è un trenino di cacca col pezzo io mi mangio il riso io mi mangio il riso vegetale cazzo perché c'è un altro riso scusa ahia il riso con le carotine il prezzemolo e quelle cose lì ha rotto il coso il riso normale lo chiami il riso vegetale bastardo ce n'è uno qua sotto anche dicevi marco scusami il riso vegetale quello con le carotine il prezzemolo e le verdurine ah ma quello con il sugo con il condimento hanno fatto le verdure ma il riso vegetale è mica il riso base il riso vegetale vuol dire che è un tipo di riso vegetale sembra ma si chiama riso vegetale poi non so come occhio qua che si cade qua c'è c'è il bastardo qua c'è lo spazietto perché sarebbe il contenuto che a volte c'è nel brodo vegetale quindi penso per quello si chiami così almeno anche a scuola mia si chiamava lo chiamavano così la mia la mezza faceva caccare quindi non mi fido c'è un altro c'è un altro spawn di ragni qua quello è uno zombie ho 20 di pippo anche là sotto mi sa c'è un altro spawn di ragni madonna si quanti mezza cassa no vaffangulo siamo finiti ancora di parlare di cibo e certo faccio il secchio d'acqua il lizard faccio il primer il primer addio quanta roba di qua oh quanti posso passare di qua ma con l'inferno eh non ho più cosa dove cazzo ma vaffangulo va guarda tezzi tezzi merda non mangiare è arrivato lo stronzo non so più come tornare poi ma neanche io lizard amo ma quanti ti amo ti lascia un creep ti amo ti ti amo ti ma che dici eh sì come faccio a riparare l'arco senza dover spendere 30 livelli e non puoi c'è l'arco power ma c'è l'altro spawn di ragni però ragni normali tra l'altro ma sempre sopra legno beh allora l'altra finisce qua dentro questa è un'anima bestia che non la disturberò assolutamente no sono ragni veni creeper penny pulpone lizard non posso scappare sta morendo non morire e invece i paroli te lo aggro ma la canna l'hai messa giù si credo mi sta finendo anche la spada tra l'altro anche a me anche la spada d'orzo la spada è in mezzo ancora ragni venivano le forme euro anche laggiù allora 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 no questo era di ragni normali no no ah quello là in fondo no ci sono le casse qua c'è un'arcere che mi sta uccidendo ma so che il cibo qua non dobbiamo andarci vieni qua vieni qua è un'arcere lì in mezzo che mi rompe corri corri da me facciamo una spada la chiamo la spada vegetale libro impallamento 4 però non c'è più spazio credo sia sempre la balestra credo sia sempre la balestra ma ce ne torniamo su lo scriviamo in alto si prendo giusto stessi dieci minuti pesco io per caso torniamo giù a rilesplorare ok io voglio farmi allora visto che avete fatto il piccone magari no aspetta però il piccone è venuto male giusto è venuto efficienza 4 si è tridente in parlamento con i 30 livelli mi conviene fare la spada o il la spada che cazzo serve è tantissimo dovevo andare poi anche nel nether nel fare quelle robe lì anche nel void si ma adesso non ti serve un cazzo il nether serve comunque tantissimo ma anche solo per il fatto tipo che devo fare cioè un colpo e sono non devo neanche tirar fuori l'arco così l'arco me lo tengo per la distanza e le do un colpo e poi sono a posto quasi quasi me la farei una spada pro l'altro è che mi caco di andarci in giro eh ma arrivo più in alto con i livelli ma tanto adesso non o rifaccio un altro piccone ma è chiuso di nuovo non è vero saprei o piccone o la spada non si scava non si capisce non riesco a salire eh non riesco a salire perché sei lento scava qua no era perché qua non si foca nasa al pratino ma faffanculo il nether ma siamo sotto ah siamo di nuovo voilà tutta sta terra siamo di nuovo qua dove alla risparirla quindi si va di là dove ho messo le torce là all'ingresso boh andiamo a casa si laggiù era l'altra entrata di qua di qua di qua abbiamo trovato diamanti però ragazzi ma non abbiamo un libro con fortuna? eh no eh scusami con esca? eh no appunto perché così facciamo una canna super hiper da fumare incredibilmente grossa eh no e di qua no dove stanno andando? oh andando troppo a sud andando andando indietro ma scusami cosa vuol dire che io per riparare il mio arco mi servono 33 di esperienza ma è tantissimo è troppo ecco ma è 43 di esperienza l'esperienza è veramente troppo controllo la rammatura probabilmente il l'elmo l'ha perso sicuro l'elmo e gli stivali sono quasi rotti adesso è un arco power normale è mai tantissimo ma gli stivali se sono così li posso fondere tipo mi ridanno qualcosina fino alle pepite le pepite di ferro almeno una volta era così beh piuttosto che buttarlo via ti conviene sempre bruciarli le parti del sì sì infatti da poco povero casa al pratino allora amici 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 e poi che fanno avevo 64 di ferro ah no sono anche questi altri io ho messo 64 di ferro nella fornace sì li ho già ciocciati quelli ti dà esperienza per prendere la roba guarda gli ezzar che è Demo Morselli che ha già messo la sua musichetta è un altro è il terzo quello inquietante è male Ricky facciamo questo come Daryl se i culo la canna da pesca o chi la puoi direttamente pescare e il fatto che non ce l'ho ho pescato abbastanza oggi eppure musica incantata mettiamo questo questo ma i libri libri incantati si prendevano solo pescando e trovandoli nelle miniere li puoi fare per un altro modo puoi fare con i bonus che incanti un libro nel chanting table ah beh sì certo no ma qua in fondo non l'ha sentita la musica io pescando lo sento da dio sì pescando sì no dove ho fatto una la pepita mi ha dato eh sì d'accordo ma cazzino no anche dei video è vero guardate che lavoro sti libri impalamento passo anfibre lo posso andenere impalamento impalamento è per la balestra appunto no impalamento è per il tridente allora poi lo sai perché c'è anche il tridente non l'ho mai usato eh ma perché lo lanci poi lo devi andare a riprendere no ma non l'ho mai usato proprio non l'ho mai avuto nessuna run anche l'altra volta mi sa l'aveva uno di voi io non l'ho usato forse l'abbiamo usato per fare i deficienti quando abbiamo fatto esplodere tutto allora altrimenti come lo si prendeva dobbiamo andare nelle cose dei nelle 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 fondali no altrimenti nei ci sono quelli gli zombie marini eh appunto ma ah basta uccidere loro saccheggio uno potenza tiro multiplo a questo punto quasi tipo lunedì o venerdì andrei un po' in barca vuoi che faccio tiro multiplo Marco libro va bene va bene va bene dai quindi non c'è niente per rendere la balestra più resistente devi ripararla ogni volta ci sarà indistruttibilità puoi mettergli metto tutto sì no facciamo una cosa metto in centro così lo sentiamo tutti allora faccio questa faccio la cazzata faccio ma no moro il tridente è buono se hai realtà ti torna indietro le realtà ce l'abbiamo l'ho pescata io torna indietro sempre non è una probabilità che torni indietro le realtà evidente con fedeltà penso sia l'arma migliore che è lealtà fedeltà penso sia fedeltà penso di sì torna sempre ok allora bisogna trovarlo dobbiamo farmarli bisogna andare nell'acqua no Marco non c'è più lealtà mi pare abbia distrutto il libro moro no no ce ne dovrebbe essere qualcuno mi pare io uno ne ho pescato di libro con lealtà lealtà 3 questo qui però lealtà 3 non è vero allora di telecazzata magari torna più veloce non lo so mi sembra strano però sembra una cacata io sapevo che c'era una possibilità più alta più alta che il tridente tornasse indietro ok ho trovato un'altra canna da pesca indistruttibilità 3 fortuna del mare 2 più ritorna veloce ok allora cambia poco vabbè almeno ne abbiamo due potenti dai i binari qua ah più lealtà più torna veloce guarda davvero moro guarda qua allora è iniziando a darmi fastidio sta cassa delle armature c'è troppo Merkel sono le armi ma più che altro perché c'è la ghiaia nella cassa delle armature eh perché ci fai le punte delle frecce ma lascia nascendo solo uno stack vabbè tanto che ti costa vedi che adesso abbiamo due canne da pesca decenti solo che una dobbiamo riparare falla riparala con quella questa qui con ripristino scusa ti viene fortuna del mare 2 indistruttibilità però c'ha indistruttibilità vabbè però in fortuna del mare 2 ripristino fa vedere se viene ah io volevo esca provo a incantare un libro è fortuna del mare 2 da ti faccio questa guarda aspetta ma aspetta aspetta voglio metterci esca provo a incantare un libro beh ma esca poi ce la metterai ce l'abbiamo un libro? non credo forse uno si no no li avevo già incantati non riusciamo a farne un altro intanto ho fatto la canna questa qui ma a parte perché c'è solo questa di canna e la mia? ma abbiamo anche questa ah ecco che è la mia vabbè poi indistruttibilità distruttibilità e ripristino sono inutili assieme no però è meglio ripristino è meglio ripristino sì adesso sono praticamente sono uguali quelle due distruttibilità non serve a niente purtroppo se hai ripristino esche per i pesci fortuna del mare per le cose rare no esca peschi più velocemente esatto c'è quello fortuna del mare incredibile ragazzi fortuna del mare trovi roba ho trovato non me l'ha droppato però ma c'aveva altri dente? eh no ah lo deve avere in mano ok giustamente questo lì viene da buttar via allora si sente un po' da comunque la monza eh ma indistruttibilità non fa mai male se hai ripristino non serve a niente però no non serve a un gazzo è perché ripristino te la cura te la sistema roba butto tutta via proprio non si attiva l'indistruttibilità perché con ripristino te la sistemi no allora tà tà tì tò c'ha parli c'ha parla c'ha sì c'ha gi io voglio andare anche in barca possiamo andarci o venerdì mattina magari post 12 ore la mattina siamo un po' sbarrate devo fare la spada devo rifare andiamo a fare un bel viaggetto in barca che dite ci ha poffato il sushi che sè come lo dice la moglie di tomazzo in giappone questo sì molto simpatica lei io ho dei video solo per lei ha tutta la famiglia anche la bambina si chiama Akio? no era Miwa Miwa è la bimba e la moglie si chiama non è Akio perché mi ricordo no non è Akio non è Akio per me mi ricordo non è Akio era Yuri forse era Yuri sì Yuri Keki perché era Akio non mi ricordo forse anche io era nata la roba fanno nome giapponese giusto per lei però ho sistemato il mio inventario ma che è quella roba di quarzo è il box almeno si sento ovunque sprecone ripristino e potenza 4 che cosa? l'arco aspetta posso unirlo non puoi mettergli infinità cosa? non puoi mettergli infinità se c'ha ripristino ripristino vabbè lo posso comunque tenere per uno di voi manca Liezar giusto? Liezar tieniti l'arco e sistematelo ma c'ho un arco in realtà però eh ma questo è meglio fidati prendilo grazie c'ha potenza 4 pure imperatore ryan come al solito la salve d'obbligo per voi e per la serie vecchi ricordi ieri sono andato a riprescare un video di yotobi games su amazing world ma no coi pupazzetti i coccolini lì cos'erano io dormo questo anche io devo andare a dormire l'uno si andiamo anche a aspetta fatemi finire qua e poi andiamo a dormire ma lì sto tornando dai ma è mazzo sti due ragni intanto di esperienza che tasti Marco secondo me oggi si sente più del solito oltre alla tua voce ma ieri quando mi hai registrato comunque da te mi sentivo diverso io dagli altri quando mi hai registrato col mixer la frase ma quello lì non so perché mi sentivo completamente diverso però adesso effettivamente stavo premendo forte i tasti quindi ha senso no ma ti ho detto anche prima noto ho detto che si sembrava ma io il gain è uguale ok io tengo sempre a 60 l'altra costruire le strade eh ferma colorado ok posto poi io lo metto nella cassa aspetta vabbè non ora non c'ho voglia di tornare indietro dai mettiamo una musica bella per chiudere dovreste mettere le torce sulla casa di corvo è molto vera questa cosa dormo ora mi hai griffato la casa me ne sono apposta adesso crede che non entro mai amici adesso non credo ci abbia più che gambe adesso andiamo che gambe invece adesso noi andiamo a ballare in Puglia vi lasciamo con niente perché non so partirà un autohost da qualche parte stasera facciamo Surgeon Simulator se funziona altrimenti Rock Company e poi da gatto se volete facciamo domani c'è la 12 ore domani c'è la 12 ore mi raccomando facci parte di tanti che poi ciao belli un saluto buon pranzio